Un clamoroso addio leggerebbe sulla coppia storica Shakira, 45 anni e non sentirli, e Gerard Piquet, 35 anni, e non sarebbe la differenza d'età il motivo principale alla base della inaspettata crisi di coppia. L'indiscrezione del momento, di fatto, parla di una preannunciata rottura tra la cantante colombiana, e il calciatore spagnolo e giunge tra le pagine dei periodico, una delle fonti più pregevoli della stampa su scala internazionale. A quanto pare, secondo l'indiscrezione del momento, Shakira potrebbe essersi vista costretta a chiudere la sua love story con Gerard Piquet, in seguito ad una relazione clandestina del calciatore del Barcellona, con una studentessa ventienne. Un gossip che, se fosse confermato potrebbe rivelarsi l'inizio della fine certa della love story di Shakira e Gerard Piquet. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.